Abbiamo testato 5 barbecue a carbonella e in questo video vi mostriamo quelli che secondo noi offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. E se siete interessati ad alcuni modelli, abbiamo inserito i loro link in fondo al video. Top 4. Bollitore Weber Original 47 cm. Questo modello pesa 13 kg ed è alto 97 cm, il che lo rende facile da montare all'aperto e da usare in posizione retta. È stabile grazie al treppiede e dispone di due ruote e di una maniglia laterale che ne facilitano lo spostamento. Durante i nostri test l'abbiamo montato facilmente in 20 minuti, grazie al chiaro manuale di istruzioni. Solo i piedini sono stati un po' difficili da inserire nelle fessure. È composta da una vasca in porcellana smaltata, un coperchio resistente al calore, una griglia di cottura in acciaio a triplo strato, una griglia di alimentazione in acciaio pesante e una maniglia di protezione. Tutti questi componenti resistono alla prova del tempo, limitando la ruggine e conservano bene il calore durante la cottura. La vasca ha un diametro di 47 cm e consente di cucinare per 4-6 persone in un'unica operazione. L'altezza della griglia non è regolabile, ma ci sono fori di ventilazione sopra il coperchio e sotto la ciotola per facilitare la combustione e il coperchio incorpora un termometro per monitorare la cottura. Il barbecue griglia, arrostisce e cuoce nella sua ciotola profonda e ha impiegato tra i 20 e i 25 minuti per cuocere le nostre carni con 500 g di carbonella. Quando l'abbiamo assaggiato dopo la prova, il sapore del risultato ci è piaciuto. Il coperchio è dotato di un'impugnatura termoprotetta che non si riscalda durante l'uso. È inoltre dotato di un gancio che consente di posizionarlo sulla ciotola per cucinare a mani libere. Anche la ciotola è dotata di un manico con ganci per riporre gli utensili. Situato al centro della ciotola, il sistema di pulizia istantanea regola il flusso d'aria e rimuove le ceneri inviandole al cassetto della cenere. Il cassetto della cenere è rimovibile e sufficientemente profondo per evitare che la cenere si disperda. Nel complesso, questo modello è facile da pulire. In conclusione, ideale per cucinare e grigliare la carne, questo barbecue a carbonella si distingue per la sua struttura stabile e resistente. Il pratico design, con termometro e la facilità di installazione e montaggio. Top 3 Cooking Garden Tonino 60 Questo barbecue misura 100 x 72 x 911 cm, il che lo rende piuttosto ingombrante da riporre, quindi è più adatto a grandi terrazze o giardini, piuttosto che a balconi. È anche pesante, con un peso di 19 kg, ma le due ruote integrate e la maniglia laterale lo rendono facile da spostare. Sebbene il manuale di istruzioni sia chiaro, il montaggio di questo modello richiede circa 1 ora e 30 minuti ed è piuttosto noioso. Durante i nostri test siamo stati in grado di gestire la cottura in piedi e abbiamo sottolineato la buona stabilità del barbecue. La superficie di cottura ha un diametro di 54,5 cm, il che significa che è possibile cucinare carne per 8 persone in una sola volta. La griglia di cottura è in acciaio smaltato e resiste alla prova del tempo. Ci ha colpito anche la buona tenuta del calore, anche dopo diverse ore di cottura. Il barbecue è dotato di un sistema di accensione facile e veloce, con uno sportello sotto la ciotola che consente di accendere rapidamente il fuoco con l'apposito dispositivo. Sono inoltre presenti fori di ventilazione sotto la vasca e sopra il coperchio per facilitare la combustione della carbonella e garantire una cottura uniforme. L'altezza della griglia non è regolabile e, essendo alta rispetto al focolare, il barbecue richiede una quantità di carbonella non indifferente. Utilizzando un chilo di carbonella durante il nostro test, abbiamo ottenuto deliziose carni alla griglia e affumicate in 20 minuti di cottura. Il coperchio può essere sollevato e bloccato per un utilizzo a mani libere e la maniglia termica sul lato non si scalda mai durante la cottura. Nel coperchio è integrato anche un termometro. Un altro aspetto in cui questo modello si distingue è la dotazione. Accanto alla ciotola c'è una piccola tavola per appoggiare la carne e la griglia sul fondo è comoda per appoggiare altri utensili. Anche le maniglie della griglia sono utili durante l'uso. Per quanto riguarda la pulizia, questo barbecue è dotato di un cestello estraibile con bordi alti, utile per raccogliere le ceneri. Questo rende l'apparecchio facile da pulire. In conclusione, nonostante le dimensioni, si distingue per il design molto accessoriato e per l'ampia superficie di cottura che consente di nutrire un gran numero di ospiti. Inoltre, è facile da accendere e mantiene perfettamente il calore. Top 2 Weber Go Anywhere Con dimensioni di 37 kg 53, 31 cm e un peso di soli 5 kg, questo è il barbecue più portatile tra quelli testati. Non è dotato di ruote per gli spostamenti, ma le sue gambe in acciaio possono essere ripiegate e bloccare il coperchio per facilitarne il trasporto a mano. È anche facile da riporre, il che lo rende ideale per il campeggio. L'assemblaggio delle parti è una semplice formalità e, grazie alla chiarezza del manuale di istruzioni, abbiamo impiegato solo 5 minuti per mettere in funzione questo barbecue. Nonostante le dimensioni ridotte, la stabilità è molto buona, ma dovrete cucinare i vostri cibi accovacciati o seduti sul pavimento. Il design incorpora una ciotola e un coperchio in porcellana smaltata, resistente al calore. La griglia di cottura in acciaio a triplo strato e la griglia del focolare in acciaio prevengono la ruggine. Tutti i materiali trattengono bene il calore e resistono alla prova del tempo. Le alette di ventilazione sul coperchio e intorno alla ciotola favoriscono la combustione della carbonella. La superficie di cottura misura 42 x 26 cm, per cui è possibile cucinare carne per due o tre persone in una sola volta. L'altezza della griglia non è regolabile, ma è molto vicina ai pezzi di carbone. In questo modo è possibile grigliare o affumicare facilmente la carne e il gusto è eccellente, secondo i risultati dei nostri test. La temperatura rimane molto costante durante la cottura, anche al di fuori della griglia. Durante i nostri test, la cottura si è rivelata veloce. Con 500 g di carbonella, abbiamo impiegato solo 10 minuti per cuocere le nostre carni. Per rallentare il processo di cottura, è possibile utilizzare una quantità inferiore di carbonella, il che rende questo modello ancora più economico. L'impugnatura protetta dal calore sopra il coperchio non si scalda durante l'uso e si può bloccare il coperchio con il gancio incorporato per un uso a mani libere. D'altra parte, non c'è una maniglia sulla griglia e non c'è un termometro. Ma una ciotola per la misurazione della carbonella è inclusa nella fornitura. Per la manutenzione, è presente un cassetto per la cenere rimovibile, ma i bordi non sono sufficientemente rialzati e la cenere tende a disperdersi. A parte ciò, questo mini barbecue è di facile manutenzione. Top 1 Weber Compact Classic Kettle, 47 cm. Questo barbecue indipendente ha un formato relativamente compatto, per cui può essere collocato su una piccola terrazza o addirittura su un balcone, ma è perfettamente in grado di cuocere la carne in piedi. Il suo design a treppiede incorpora due ruote e una maniglia e lo abbiamo trovato facile da spostare con il suo peso corretto di 9 kg. Tuttavia, data la sua leggerezza, la stabilità è un po' inferiore a quella di altri modelli, ma è comunque discreta e permette di affrontare il vento. Per quanto riguarda l'installazione, le istruzioni sono molto chiare e durante i nostri test abbiamo impiegato 20 minuti per montarla. La vasca in porcellana smaltata è resistente e trattiene bene il calore. La griglia di cottura in acciaio a triplo strato e la griglia di alimentazione in acciaio pesante mantengono una temperatura ottimale per una cottura uniforme e limitano la comparsa di ruggine. Sul coperchio è presente anche una maniglia di protezione dal calore che non si è surriscaldata durante l'uso. Sulla parte superiore del coperchio e sul lato inferiore della ciotola sono presenti fori di ventilazione per favorire la combustione della carbonella. La padella misura 47 centimetri di diametro e siamo stati in grado di cucinare carne per 4-6 persone in un unico lotto. L'altezza della griglia non è regolabile ma con 500 grammi di carbonella la carne ha impiegato tra i 20 e i 25 minuti per cuocere e il sapore è stato eccellente. Per un utilizzo a mani libere il coperchio è dotato di un gancio che consente di appoggiarlo sulla padella durante la cottura. Tuttavia non c'è un termometro incorporato. Altri accessori includono una ciotola per misurare la quantità di carbone. Per quanto riguarda la manutenzione questo modello è dotato di una vaschetta in alluminio sotto la ciotola per raccogliere le ceneri. Questa vaschetta è rimovibile ma i suoi bordi sono solo leggermente rialzati quindi c'è il rischio che la cenere si disperda. A parte questo il barbecue è facile da pulire. In conclusione questo modello si distingue per l'ottimo rapporto qualità-prezzo e per il suo design resistente semplice e pratico. Efficiente! È ideale per cucinare o grigliare la carne con la famiglia e gli amici. E con questo si conclude la nostra selezione dei migliori barbecue a carbonella. Se siete interessati ad alcuni modelli troverete i link ai loro migliori prezzi proprio sotto questo video.